Non puoi parlare di calcio mercato, parlami dello stadio Mariconda, che cosa ti ricorda questo campo? Sì, per me è uno stadio importante perché ricorda la mia infanzia, ho iniziato a giocare su questo campo quando gli avversari mi buttavano a terra e mi ricordavo tutte le ferite che avevo e quindi per me è stato importante anche perché mio padre giocava anche qui e quindi è uno stadio rappresentativo per me. Quando tuo padre giocava però le tribune erano dall'altra parte e che ti raccontava di quelle partite? Sì, video ce ne sono pochi ma la gente mi parla sempre molto bene di mio padre perché comunque dicevano che era un giocatore forte e io ne sono sicuro e come hai detto te erano dall'altra parte, io non ricordo molto bene ma erano due epoche diverse sicuramente. Non hai avuto la fortuna nemmeno di vederlo in terza categoria? No, no, non mi ricordo però la gente parlava molto bene di mio padre quindi ne sono molto contento. Io ho avuto la fortuna di giocarci nell'ultimo periodo quando lui con due ginocchiere perché aveva entrambe le ginocchia insomma operate però si sforzava sempre di giocare e fare gol. Tante movenze sue, oggi sono tue, però quello che ti ha inculcato, Io ricordo ancora tante interviste quando scalavi di volta in volta, insomma le posizioni, ti diceva sempre resta con i piedi per terra, usava l'espressione serinese, ne devi mangiare ancora tanto di? Di pane. Sì, è sempre stato il suo motto per farmi stare con i piedi per terra e io questo ne ho preso atto e sono molto contento degli insegnamenti che mi ha dato mio padre perché era una persona importante sia per me che per tutta la famiglia, lo sarà per sempre e quindi sono molto contento di lui. Infatti oggi è una giornata speciale dedicata a lui e a Ciappone che comunque erano due persone molto importanti in questo paese e ne siamo contenti. Quanto è stato importante Capuano nelle decisioni che poi hanno determinato fino adesso la tua carriera? Sì, il mister Capuano è stato molto importante per me, ha insegnato tantissime cose sia la fase difensiva che la fase offensiva. Il mister Capuano è una persona importante per la mia carriera, è stata molto come sono stati tantissimi altri allenatori e averlo incontrato in un determinato tempo della mia carriera è stato molto importante per me. Ricordi quell'intervista quando lasciaste Avellino, facemmo le prove anche con il trolli per uscire. Oggi quando finisce una partita il primo risultato che guardi qual è? Sì, ovviamente guardo tutto quello che mi è successo. Partire dalla Serie D è sempre molto difficile perché comunque si scalano tante categorie, si impara tantissimo e arrivare a rappresentare l'Italia, l'Europeo per me è stato il massimo della mia carriera. Ovviamente ci sarà ancora tanto da fare e spero che andrà tutto bene. Serino, ormai ti ha preso come idolo soprattutto i ragazzini, l'Under 21 è una tappa, per il prossimo anno non ti chiedo di calciomercato ma almeno stai cambiando maglia, questo lo sappiamo, l'ha messo pure Corsi il presidente dell'Empoli, sei pronto al grande salto? Che obiettivi ti poni? No, il mio obiettivo è sempre quello di dare il massimo e come ha detto il presidente Corsi che comunque ci sono delle trattative in corso e vedremo in questi settimi anni cosa succede.